Mercoledì 21 novembre alle 11.30 presso il Palangeli in via Umberto Antonetti nel progetto case di Santeria 1 il nuovo basket aquilano presenterà i due main sponsor per il campionato di Serie C, Silva, Errabruzzo, Marche, Molise e Umbria. Per la partecipazione al difficile tornamento regionale di quest'anno la società aquilana avrà al suo fianco due realtà di grande prestigio del territorio aquilano come Sanofia Ventis, azienda farmaceutica di grande rilievo per il tessuto economico locale grazie al suo stabilimento di Scopito da anni vicino alle attività sportive e sociali del club del Palangeli e l'Utel San Michele che con la nuova gestione si sta proponendo per un'accoglienza turistica di livello superiore. La formazione di Serie C del nuovo basket aquilano avrà quest'anno dunque i loghi dei due nuovi partner sulle maglie da gioco e su quelle dedicate al pregara e per il club del Palangeli è motivo di grande orgoglio avere al proprio fianco due realtà come Sanofia o del San Michele, quale è il riconoscimento importante dei risultati agonistici e dell'attività svolta anche attraverso manifestazioni e tornei internazionali e nazionali a favore dei giovani cestisti cittadini. All'incontro interverranno anche Alessandro Caso il nuovo direttore dello stabilimento Sanofi di Scopito e Federica Terenziani rappresentanza della proprietà di San Michele.